E' stato presentato a Napoli, a Castel Capuano, il Master in Studi Diplomatici, corso di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica promosso dal Ministero degli Affari Esteri e organizzato dalla SIOI, la Società Italiana Organizzazione Internazionale. Il corso, che inizierà a settembre 2015, per concludersi il prossimo aprile, sarà della durata di 600 ore e sarà rivolto ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche e a tutte quelle lauree previste dal regolamento della carriera diplomatica. Tra le materie, previste dalla didattica del Master, storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea, lingue, politica economica e cooperazione commerciale. A presentare il corso, il professor Giuseppe Tesauro, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. E' un corso di preparazione finalizzato al concorso in diplomazia, è un Master particolare quindi da questo punto di vista. Cosa fondamentale di questo Master è anche la possibilità per gli studenti di poter avere delle borse di studio. Questo è importante, questo particolare. Grazie al supporto del Banco di Napoli e della Camera di Commercio abbiamo la possibilità di dare delle borse di studio, che l'anno scorso erano circa sette e quest'anno speriamo di fare altrettanto.